Buiii! Oggi costruiremo un razzo E ci faremo male! E lo farò in compagnia con Dev, mio figlio Magari fosse tuo figlio Intanto non faremo un razzo, faremo il motorino Allora, quello che andremo a fare oggi è il motorino per il cosiddetto sugar rocket E' sta scoperto? No, vecchio, che cazzo? Spiegalo! Spiegalo! Uaaaaaaaaaaaaa Quello che ci servirà Dallo zucchero vero Nitrato di potassio Un tubo Ah, vi serve un legnetto Tutto qua Nel cavo Nel cavo Questo servirà per misurare Poi vi farò vedere come Servono le micce Bella sabbietta per i gatti Un accendino Deve avere le donne nude Se no no, l'esperimento non funziona Un frullatore E poi Bicarbonato e sodio E vi faremo vedere a cosa serve Secondo passo è Stabilire La sequenza di polveri che andremo a mettere dentro Il nostro Legnetto Adesso vi faremo vedere come Terzo passo Prendere il nostro tubo in pvc E tagliarne 9 cm Cos'è pericolosa Le faccio fare a lui E' una persona scherzionosa Quindi lanciamogli la roba sporca Beh E' sporco Ah No no, non basta No l'aprico, non mi piace Prima cosa da mettere Prendere il frullatore Prima cosa da frullare Sarà la sabbia dei gatti Non aprire il contenitore subito Io l'avrei fatto Apritevi Perché? Perché respirare quella roba non è bello Prendere aria Ma è esplosivo? No è sabbia dei gatti Quindi ora potassio No che schifo Dopo No no Pensa te ma in palline Sono esplosive queste? No 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 sì 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 Non lo so No Noi non l'abbiamo mai fatto Seguiamo un tutorial per fare il tutorial Ok ora dobbiamo fare due terzi di potassio E un terzo di zucchero a velo Lo zucchero a velo diventerà una miscela altamente combustibile Da questo momento si fa moolta attenzione Non capisci un c***o Vieni qua Sabbia per gatti Ah dev 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 Sì l'abbiamo messo dell'accessione troppo Topo Troppa Ci siamo appena resi conto che avevo sbagliato Qui nell'inizio Gli spazi Vogliono vedere Vogliono vedere Vogliono sapere Ho fatto uno spazio in più era solo sabbia Boom White e sabbia Ecco perché non ci tornavo Pazzo un po Deve arrivare Dovrebbe arrivare qua Mentre se io lascio cadere Arriva qua Quindi ce ne vuole un po Perfetto Oddio Ora 4 centimetri di miscela esplosiva Ora dovremmo fare combustibile ritornante Si prende un po' di combustibile normale Che noi abbiamo brevettato e chiamato boom Bicarbonato di sodio Ho sbagliato Ma prendi un altro Cioè c'è da rifare tutto il leggetto Allora rifacciamo No Pronto per il video non fai con nessuno Basta che vede il po' del razzo Cioè tutorial tutto sbagliato È un tutorial sbagliato Eh perché non l'ha fatto il contrario Abbiamo messo troppo poco boom Aggiungiamo boom Adesso riempiamo il tutto con sabbia dei gatti Dobbiamo fare il buco con un trapano Per fare un buco dove ci inseriamo la mixa Da qua a qua Deve andare giù Ciao mammi Stiamo facendo un razzo Ora dobbiamo prendere la miccia al petardo Ora abbiamo preso la miccia Abbiamo messo il razzo Qui su una slitta a caso Dovremmo provare a pararlo per aria Come c'è buio Vogliamo solo vedere se parte No ragazzi Stavolta non ha funzionato L'abbiamo trovato ed è esploso Ci sarebbe da fare qualche modifica Ritorniamo a fare le cose stupide Stupida da parte 2 Adesso abbiamo il ritardante Questo è il ritardante Alla prossima Ciao 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 Ciao